Benvenuti o bentornati sul canale portale Sanità Digitale. Sono Gennaro Ricchio, biologo nutrizionista. In questo nuovo video vi parlo di una pubblicazione scientifica, di una review, dal titolo Diabete di tipo 2 con obesità. Esiste una dieta ideale? Allora, questa review, questa revisione è stata tradotta con Google Traduttore, declino ogni responsabilità per l'eventuale non corretta traduzione. Le informazioni fornite in questa pubblicazione non intendono in alcun modo sostituirsi al parere del medico di fiducia. Declino espressamente ogni responsabilità dall'adozione individuale di diete fai-da-te, rivolgersi sempre al medico e al biologo nutrizionista. Questo video è presente sul canale YouTube portale Sanità Digitale, su LinkedIn e Facebook. Se siete interessati a questo tipo di contenuti, iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanella per attivare le notifiche. Sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file PDF di questa presentazione. Eventuali marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari. Di cosa vi parlo in questo video? Delle patologie, obesità correlate, del diabete, dei dati di prevalenza in Italia, del sovrappeso e obesità, sempre per quanto riguarda i dati Italia. Poi di pubmed.gov, questo portale che raccoglie un database con più di 33 milioni di articoli scientifici. E poi nello specifico della review, di questa revisione, di questa raccolta di pubblicazioni scientifiche che riguardano il diabete di tipo 2 con obesità. E poi la domanda che si fanno gli autori dell'articolo è quella della review, è quella di andare ad indagare se esiste una dieta ideale. Per quanto riguarda le patologie correlate con l'obesità, sono divise in patologie respiratorie, quindi apnea notturna, indolleranza all'esercizio, asma, sindrome di Pickwick, cardiovascolari, infarto, ipertensione, dislipidemia, endocrine, diabete tipo 2, infertilità, sindrome dell'ovaio policistico, alterazioni al ciclo mestruale, muscoloscheletriche, artrosi di anche bacina, sintomi di Blount, epifisiolisi dell'anca, psicologiche, bassa autostima, depressione, disturbi del comportamento alimentare, neurologiche, ictus, ipertensione endocranica, gastrointestinali, calcolosi biliare, steatosi epatica, deflusso gastroesofageo, oncologiche, utero, pro, postata, colon, esofago. Per quanto riguarda i dati di prevalenza a livello nazionale del diabete di tipo 2 a livello dati ISTAT nel 2016 indicano che è diabetico il 5,3% degli italiani, pari a oltre 3 milioni di persone. Questo è l'andamento che la prevalenza del diabete aumenta con l'età fino a raggiungere il 19,8% nelle persone con età uguale o superiore ai 75 anni. La fonte è il sito epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi per quanto riguarda l'area geografica si vede come al sud, questi sono i dati di fonti ISTAT 2015, l'incidenza del diabete del 6,5%, per la regione Campania è un 6,7%, che i dati del 2000 mantengono questo tipo di percentuale. Questo per quanto riguarda le fasce di età, in questi dati sempre dell'Istituto Superiore di Sanità c'è un raffronto tra i dati del 2016 e quelle del 2020. Il dato più importante di tutti è che si passa per i pazienti con più di 75 anni da un'incidenza di 14,9% nel 2000 a ben il 19,5% nel 2016. Questo invece per quanto riguarda il sovrappeso e l'obesità, questi sono i dati Italia. I dati in Italia che vedono il periodo dal 2017 al 2020 e si vede come gli obesi in Italia sono il 10,8%, in sovrappeso il 31,6%, normopeso sottopeso il 57,6%. Per quanto riguarda poi l'attenzione degli operatori sanitari, qui su questo sito nella sezione sorveglianza passi, passi sta per progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia. Quindi si vede come in realtà gli operatori sanitari per quanto riguarda i pazienti obesi consigliano di perdere peso nel 71,8% dei casi. Poi per quanto riguarda il sovrappeso il 37,2%, fare attività fisica 50,3% per gli obesi e poi per quanto riguarda il sovrappeso il 32,5%. Venendo alla regione Campania, qui come si vede il dato è più alto, gli obesi sono meno il 13,6% con in più un 38,6% di sovrappeso. Il 4 mazzo è la giornata mondiale dell'obesità. Qui dal sito vengono riportati questi dati importanti che danno una misura a livello mondiale di quello che è il fenomeno dell'obesità e del sovrappeso. 800 milioni di persone nel mondo convivono con l'obesità. Le conseguenze mediche dell'obesità costeranno oltre un trilione di dollari entro il 2025. Questa è una stima ovviamente. Le persone che vivono con l'obesità hanno il doppio delle probabilità di essere recuperate in ospedale se risultate positive al Covid. Si prevede che l'obesità infantile aumenterà del 60% nel prossimo decennio raggiungendo i 250 milioni entro il 2030. Quindi come abbiamo visto la regione Campania con dati al 2020 c'è un 13,6% di persone obese più 38,4% di persone in sovrappeso. Questo riguarda poi l'attività fisica. Qui il dato a livello Campania che è raffrontato con il dato Italia si vede che le persone attive sono il 23,5% rispetto a un 30,7% a livello Italia. Le persone parzialmente attive sono il 21,8% rispetto al 32,7% dell'Italia. Le persone sedentarie in regione Campania sono il 54,7% rispetto al 36,6% dell'Italia. Quindi i conti tornano perché una maggiore incidenza come abbiamo visto nella slide precedente, una maggiore incidenza di obesità e di diabete sicuramente è legato anche alla ridotta attività fisica rispetto a quella che è l'andamento Italia. Per quanto riguarda poi invece sovrappeso e obesità, qui sono altri dati riportati per quanto riguarda la distribuzione per aree geografiche. I dati sono sempre 2017-2020. Veniamo adesso a vedere che cos'è PubMed. PubMed è una risorsa gratuita, è un portale che offre delle pubblicazioni scientifiche, la consultazione che supporta la ricerca e il recupero della letteratura biomedica e delle scienze della vita con l'obiettivo di migliorare la salute sia a livello globale che personale. Il database di PubMed contiene oltre 33 milioni di citazioni e abstract di letteratura biomedica. Sul canale portale Sanità Digitale trovate un video su come fare una ricerca su PubMed. Il consiglio è sempre di iscriversi al canale. Per quanto riguarda la ricerca su pubmed.gov, nella casella di ricerca sono stati inseriti i termini di obesità, sovrappiso e diabete e poi ho fatto clic su ricerca. Il portale segnala che sono presenti nel suo database più di 67 mila lavori scientifici che riguardano questo tipo di argomento, cioè obesità, sovrappiso e diabete. Uno degli articoli presenti è quello poi oggetto di questa presentazione, di questo video, che riguarda diabete con obesità. Esiste una dieta ideale, è una review, quindi è una raccolta di pubblicazione di lavori scientifici. L'articolo è gratuito. Qui ricordo che pubmed.gov è un portale in inglese, però con Google Chrome attivando la traduzione automatica del browser c'è la possibilità poi di usufruire della pagina web in italiano. Per consultare su pubmed.gov vengono pubblicati gli abstract del lavoro della pubblicazione scientifica, poi per consultare l'articolo completo, la pubblicazione completa, sulla destra, qui in alto trovate poi sempre il link da dove potete scaricare il file pdf della pubblicazione completa. Qui sotto sono riportati sempre il link per poter accedere direttamente a questa pubblicazione scientifica. Quindi venendo all'abstract, per quanto riguarda questa review, che dice per le persone in sovrappeso o obese, la perdita di peso è efficace nel prevenire e migliorare la gestione del diabete di tipo 2. Quindi questo è il primo dato fondamentale. Quindi la perdita di peso, come abbiamo visto, è determinante. Insieme ad altri fattori dello stile di vita, come l'esercizio fisico e la modifica del comportamento, la dieta gioca un ruolo centrale nel raggiungimento della perdita di peso. Quindi dieta, esercizio fisico e modifica del comportamento. Le diete variano in base al tipo e alla qualità di carboidrati, grassi e proteine consumati per raggiungere gli obiettivi di apporto calorico giornaliero. Quindi sapete bene che le tre categorie di macronutrienti sono i carboidrati, grassi e proteine. Vengono esaminate numerose diete, nella review vengono esaminate numerose diete popolari e studi che valutano l'effetto di varie diete sulla perdita di peso, sul diabete e sui fattori di rischio cardiovascolare. Qui, come vedete, di seguito poi andremo ad analizzare il riepilogo delle varie tipi di diete e i dati che vengono poi evidenziati e riassunti in breve sono proprio oltre ai cibi consentiti da evitare. L'obiettivo è la perdita di peso raggiunto, gli indicatori per quanto riguarda il diabete tipo 2, l'imoglobina glicata e l'incidenza sui fattori di rischio cardiovascolare. Altro parametro che si va a valutare poi nella sintesi è il tempo con cui poi i pazienti eventualmente riacquistano il peso. La funda è qui sempre in link, come vi dicevo in precedenza. Le tendenze attuali favoriscono le diete a basso contenuto di carboidrati, a basso indice glicemico, dieta mediterranea e ipocalorica. Tuttavia non esiste una strategia dietetica ottimale per i pazienti con obesità e diabete e sono necessarie ulteriori ricerche. I punti chiave di questa pubblicazione scientifica sono la perdita di peso nelle persone obese ha dimostrato di essere efficace nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2. Quindi perdita di peso. Le diete variano in base al tipo e alla quantità di carboidrati, grassi e proteine consumate per raggiungere gli obiettivi di apporto calorico giornaliero. Diete di uguale apporto calorico comportano una perdita di peso e un controllo del glucosio simili indipendentemente dal contenuto di macronutrienti. Lo stato metabolico del paziente in base ai profili lipidici e alla funzionalità renale ed epatica è il principale determinante per la composizione dei macronutrienti della dieta. Quindi il lavoro che fa il nutrizionista è fondamentale in determinare quello che è lo stato metabolico del paziente e poi avere anche una visione su quella che è la funzionalità renale ed epatica in particolar modo. A queste si aggiunge poi la funzionalità pancreatica e la funzionalità della tiroide. Allora iniziamo un po' a vedere il riepilogo dei vari tipi di diete che sono state valutate in questo tipo di review o di pubblicazione scientifica. Quindi per quanto riguarda la dieta a basso contenuto di carboidrati come vede in estrema sintesi i cibi da evitare, riso, pasta, pane, i cibi da preferire. La perdita di peso rapida è rapida, 11 kg in 4 mesi. L'emoglobina glicata si riduce dell'1,4% in 6 mesi. Dal punto di vista cardiovascolare si abbassano i trigliceridi e si inalza il colesterolo HDL. Il peso si riacquista in genere anche rapidamente. Per quanto riguarda poi le diete a basso indice glicemico, la perdita di peso è minima, l'emoglobina glicata si riduce anche di poco, non viene determinato poi l'impatto sui parametri che determinano un rischio cardiovascolare e nettando meno si ha un'indicazione per quanto riguarda poi i tempi sulla ripresa da parte delle persone del peso iniziale. Per quanto riguarda invece la dieta a basso contenuto di grassi sicuramente c'è una buona perdita di peso in 6 mesi, l'emoglobina glicata c'è una riduzione anche in questo caso. C'è un impatto anche sui fattori di rischio cardiovascolare. La dieta ipocalorica è una dieta che al di là dei risultati ottenuti che comunque non sono eclatanti per quanto riguarda la perdita di peso è importante, però quello che c'è da prendere in considerazione è che per questo tipo di dieta è richiesto uno stretto monitoraggio da parte del medico, del nutrizionista, richiede sostituti del pasto e ha un tasso di bassa aderenza da parte dei pazienti. È difficile da seguire questo percorso nutrizionale, anche questi piani alimentari, anche se sono poi limitati nel tempo. La dieta mediterranea, anche questo come abbiamo detto all'inizio è interessante per quanto riguarda la perdita di peso, ha un impatto anche se ridotto sull'emoglobina glicata, sui fattori di rischio cardiovascolari. C'è anche una riduzione della pressione arteriosa sistolica di 7,1 mmHg. C'è comunque un recupero del peso minimo anche in due anni. La perdita di peso in questo caso è più lenta, ma il vantaggio è che c'è un elevato tasso di aderenza del paziente ai piani nutrizionali che seguono lo stile della dieta mediterranea. Per quanto riguarda poi la dieta veloce modificata con l'isparmio proteico, c'è un'elevata perdita di peso da sottolineare e comunque il paziente riacquista il peso iniziale in 5 anni. C'è una riduzione dell'emoglobina glicata, un considerevole impatto per quanto riguarda poi i fattori di rischio cardiovascolari. Anche per questo tipo di dieta è richiesto uno stretto monitoraggio da parte dei medici, del biologo nutrizionista, richiede sostituti del pasto, quindi la compliance da parte di chi deve eseguire questo tipo di percorso nutrizionale è sicuramente inferiore rispetto agli altri tipi di diete. Se sono le diete vegetariane o vegane mancano di nutrienti importanti, c'è una riduzione dell'emoglobina glicata, la diminuzione del peso non è poi considerevole. La dieta ricca di proteine. Dieta ricca di proteine, anche in questo caso, c'è una riduzione del peso in 12 settimane di 5,2 kg, l'emoglobina glicata si riduce in modo ridotto per quanto riguarda poi i tempi sul ritorno al peso iniziale delle persone che non è stato possibile rilevare. Deve essere una dieta individualizzata che tenga conto del rischio cardiometabolico e del profilo renale in particolar modo. Quindi è una dieta non applicabile sicuramente a tutti i pazienti. Quindi per quanto riguarda il confronto, cosa emerge da questa pubblicazione, da questo lavoro scientifico? Che il confronto tra le diete, questi studi che hanno confrontato le diete, hanno raggiunto conclusioni diverse e sono stati limitati da definizione di dieta incoerente, piccole dimensioni del campione e alti tassi di abbandono dei partecipanti. Comunque la maggiore perdita di peso si è verificata con la dieta, come vi avevo visto in precedenza, dall'analisi dei vari tipi di diete e si è verificata con la dieta a basso contenuto di carboidrati e dalla dieta mediterranea. Rispetto alle diete di controllo, la maggiore riduzione di emoglobina agricata sono state rilevate con la dieta a basso contenuto di carboidrati, a basso indice glicemico, mediterranea e dieta ad alto contenuto proteico. I livelli di colesterolo HDL sono aumentati tutte le diete tranne la dieta ricca di proteine. Quindi in conclusione, per quanto riguarda questo tipo di conclusione di questa pubblicazione, è che la dieta ideale è quella che ottiene la migliore aderenza se adattata alle preferenze, ai bisogni energetici e allo stato di salute del paziente, della persona. Quindi questi sono i tratti fondamentali che poi qualsiasi nutrizionista segue per guidare il paziente e per condividere poi che il biologo nutrizionista condivide con il paziente quello che è il piano alimentare che soddisfa questi requisiti. Sul canale portale Sanità Digitale trovate anche, se volete approfondire, altri video che possono essere collegati a questo tipo di argomento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al canale.